Andiamo nella gestizione, vai! Bene, bene, via, godi! Bravo! Si marca l'ora, andiamo bene! Si marca l'ora, andiamo bene! Non mi vado! Vai, vai, vai! Una volta che è rapido! Via, 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 via! Via, 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 via! Sulla palla, via forte! Sulla palla, via forte! Via, via, via! 30 secondi a tutto! Vento a spagna tutta! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Chi è intensità, chi è intensità! Molto bene! Vai, vai! Via, via, via! Vai! Via, via, via! Vai! Vieni! Vai in corso! Cerca davanti! Cerca davanti più scappi! Cerca davanti più scappi! Vai! 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 Via, via! Vedi a guardare! Ok, buono! Stop! Vedi! Ti versi! P 29 controca! Amy Milano! libero di ruoli e e e e e e e Gira Giorgio, gira Giorgio, veloce, veloce Bravo Adri Vieni, vieni, vieni Bravo Adri Grazie a tutti.